ragazze buongiorno buongiorno oggi 31 dicembre e finalmente come diceva christian desi che in un famoso film vacanze di natale questo capodanno ce lo stiamo togliendo dalle balle ragazze guardate che meraviglia ma quale dicembre ma quale 31 dicembre qui sembra giugno meraviglioso mare ragazze allora io sono sempre sotto antibiotico sto continuando e nonostante io sia sotto antibiotico sapete che ancora ieri sera avevo un pochino di mal d'orecchio stamattina un bel po di starnuti l'occhio un po umido che mi lacrima ma insomma speriamo bene allora ieri pomeriggio mi ha telefonato una mia cara amica dicendo che cosa facevo stasera siccome io non avevo niente di programmato abbiamo deciso insieme di andare a mangiare una pizza fuori solo che lei poi si vuole fermare in piazza al politiama perché ci sarà una festa appunto presentata da sergio friscia con vari ospiti io ragazze non mi sento di stare ferma in piazza vuoi o non vuoi anche se da noi le temperature sono molto miti però insomma mezzanotte luna si capisce che c'è più freddo c'è più umidità e siccome ancora vi ripeto fino a ieri sera avevo un po di mal d'orecchio non me la sento quindi io mangerò la pizza e poi niente mi ritirerò a casa mia dove mi aspetterà qualche dolcino una fetta di pandoro lo spumante e la tv quindi brinderò insieme appunto ad amadeus forse che a rai uno e niente quindi questo è il programma di oggi ieri vi ho fatto vedere il pentolone di ragù o no forse non ve l'ho fatto vedere no perché l'ho fatto ieri pomeriggio pentolone di ragù e pentolone di besciamella già in frigo che ho spostato ecco qua ecco qua ho messo la pellicola in modo da non far fare quella patina gialla che si fa e niente ragazze allora ho già fatto il letto oggi praticamente non voglio fare nulla quindi solamente solamente l'ordinario quindi perché ieri ho fatto tutte le pulizie ci sarebbe questa sedia da smaltire però vi dico una cosa ragazze molte cose sono da riporre senza bisogno di essere stirate è tipo il pigiama la vestaglia quindi adesso questa sedia cercherò di liberarla vi stavo dicendo appunto che ieri mi sono fatta tutte le pulizie quindi oggi solamente quello ordinario quindi devo fare il bagno ho lavato i tappeti di tutta la casa sono già asciutti tranne quello della cucina quindi bagno faccio la cucina perché vedete mio marito è specializzato nel fare i piatti però poi le pentole scusate poi le pentole un po si confonde e le lascia a me va bene il piano cottura pure perché non lo sa fare e niente ragazze quindi faccio solamente le cose ordinarie e poi nella mia mente c'è anzitutto mi devo fare il colore perché sono indecentissimamente indecente quindi il colore mi devo fare naturalmente la manicure e poi invece oggi voglio cucinare un po ma tutto questo cucinare prima del colore altrimenti mi posso andare a fare lo shampoo di nuovo vorrei fare quelle sfoglie che avevo comprato per natale la voglio fare tutte e due una dolce e una salata una la voglio fare dolce mettendo della cioccolata poi vi faccio vedere e una invece la voglio fare salata mettendo vediamo mozzarella e pomodoro vediamo quindi una dolce una salata poi ci sarebbe sempre la famosa torta al cacao alla cioccolata che volevo fare sempre sabato scorso ma sapete appunto è sono stata malissimo quindi vediamo oggi se mi riesce di fare queste ciccionerie vista dal bagno allora ragazze facciamo questo bagno per l'ultima volta nel 2022 per l'occasione ho uscito le ceste in modo da avere i pavimenti più liberi mi dispiace che non ho lo spray quello l'anticalcare del lidl ma mi è finito e l'altra volta non l'ho trovato va bene ci arrangiamo con questo che è sempre ottimo allora diamo una pulita a questo bagno vi ripeto per l'ultima volta in questo 2022 e ragazze che dirvi dopo aver fatto il bagno avere passato il moce ai pavimenti poi mi trasferisco in cucina perché voglio fare queste due sfoglie queste due sfoglie una dolce una salata e niente vorrei farli questi due un antipasto e uno è uno dolce vorrei farli a forma di albero albero di natale io non l'ho mai fatto vediamo che cosa ne esce vediamo che cosa ne esce fuori perché vi ripeto non l'ho mai fatto va bene raga passo e chiudo per il momento ragazze è arrivato un mio momento preferito allora guardate vi faccio vedere con la sfoglia per la sfoglia dolce che cosa sto utilizzando allora questa è la sfoglia anzitutto l'ho tagliata così una due tre quattro e cinque giusto quindi ho tagliato quattro volte ma in realtà abbiamo cinque strisce e poi in maniera orizzontale giusto quindi ho ricavato dei quadratini ora che cosa farò naturalmente tutto questo che io sto facendo l'ho visto su internet ed altre youtuber ed altre persone che hanno instagram che hanno delle belle pagine anche appunto di appunto di cibi allora che cosa farò dentro ognuno di questo quadratino metterò un quadratino di cioccolato guardate che buono questo cioccolato che mi ha comprato mio marito gran blocco fondente 50 per cento cacao fondente extra ed è facile da sciogliere ed è ideale per i dolci quindi ora io metterò un quadratino di cioccolata dentro questa sfoglia la chiuderò un po a pallina e cercherò di fare l'albero di natale vediamo che cosa ne esce fuori la prima volta che lo faccio ecco qua ragazze il mio albero di pasta sfoglia dolce ripieno di cioccolata eccolo qua allora ora spennelliamo un pochino di rosso quindi solamente il tuorlo in modo che la pasta sfoglia venga bella colorata poi sono indecisa magari li metto tutti e due se quando appunto è pronto intanto ho già naturalmente il forno acceso quando è pronto non so se mettere sopra lo zucchero a velo o se mettere sopra il cacao ma magari li metto tutte e due che dite ragazze si può mettere insieme ma non lo so vediamo intanto adesso le inforno e vi faccio vedere come confiano queste palline come si colorano speriamo che la cioccolata non si fonda troppo e non esca perché altrimenti poi la pallina mi rimane vuota ok inforniamo forno già caldissimo ok ora nel frattempo pensate che io non faccia niente no nel frattempo faccio quello salato ok